Sono nel centro di Milano per visitare lo spazio Lenovo ed entrare nel nuovo mondo dei Legion. I boss di Lenovo Italia ci stavano introducendo tutti i nuovi dispositivi Legion, ma io ero distratto da questo monitor, perché c'era su un Resident Evil 4 che girava su questo portatile sottilissimo. Era giunto il momento di farsi un bel giretto e vedere da vicino tutti i nuovi Legion Pro e Slim a disposizione nel banco di prova, ed effettivamente sono davvero dei portatili fighissimi. La cosa assurda di questi Legion Pro è che hanno un design pulitissimo, uno spazio ridottissimo, ma sono delle vere e proprie macchine da gaming, pieni di lucine fantastiche, come piacciono a noi! E soprattutto sono leggeri, non l'avrei mai detto, sono davvero leggeri. Poi ho visto il prezzo e ho capito che c'era dentro una 40-90. Comunque ne ho approfittato anche per farmi un giretto proprio nello spazio Lenovo, perché siamo in pieno centro a Milano e questo è un vero e proprio tempio dedicato alla tecnologia e soprattutto al gaming, dove tutto può essere toccato con mano e visto con i propri occhi, per rendersi conto di cosa si ha effettivamente davanti. Ma lo spazio Lenovo è anche uno spazio appunto dove poter lavorare e farsi quattro chiacchiere con i propri amici e colleghi e allo stesso momento trovarsi in mezzo al mondo della tecnologia. Insomma, davvero un posto fighissimo. L'unica cosa brutta è quando proprio te ne devi andare, perché io sarei rimasto un po' di più. Grazie a tutti.